Compagnie, compagni, la cucina è un atto politico. Noi siamo contro la demagogia della cucina di plastica di Masterchef. Noi siamo contro la tecnocrazia che vieta di poter mangiare la pagliata romana e soprattutto che ci impedisce di portare i dolci fatti in casa nelle scuole per il compleanno dei nostri figli. Noi siamo lontani dall'aristocrazia del cibo fighetto. Siamo per le fritture e per l'uso dello strutto nella pastofrolla per i pasticciotti. Perché la pastofrolla dei pasticciotti senza lo strutto soffra. Respira male. Siate militanti fino in fondo e soprattutto strutto, strutto, strutto! Che! 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 Grazie a tutti.